E mi auguro a giorni verranno emessi i mandati di cattura contro quei criminali che dovranno essere chiusi dentro le sbarre e non carcere per tutta la vita come sono stati condannati i nazisti. E allora onore e ci dobbiamo inchinare al lavoro di Giuliana Assange. Giuliana Assange ha sacrificato la sua vita chiusa in un carcere come oggi 142 giornalisti palestinesi hanno sacrificato la loro vita mettendo la loro vita per l'amore della verità e contro il genocidio e contro la politica criminale nazista di Israele.